Per essere tutto pronto si va agli ordini dello starter Partiti Omoboreala allo steccato con vicino Crixus Allargo meccanico Poi più all'esterno Corruption e Tango Ruiziano Bagar per andare davanti Corruption prova a sfondare Su un meccanico che fa sfilare Poi Tango Ruiziano Con Corruption davanti Non allunga Ora si su Tango Ruiziano e meccanico Poi Crixus Che precede Do It Again e meccanico Tutti molto Larghi con Corruption Che prova a scappare da Tango Ruiziano Da Crixus e dall'interno Da meccanico I quattro avanti Omoboreala, Do It Again E poi all'interno Motivetto Corruption in fuga per la vittoria E Learossi che lo lascia Con redini molto blande In seguito da Tango Ruiziano All'esterno però c'è Meccanico Poi Crixus Poi Ubo Borealdo Do It Again Di dentro va Motivetto Corruption prova a mettersi a riparo Perché all'interno della sua scia Ancora un po' distante Ma si sta ingambando Motivetto E poi a largo anche Meccanico Corruption è un po' in difficoltà Motivetto prova ad andarlo a prendere Motivetto che sta scattando su Corruption Che cerca il palo Ha bisogno del palo E lo trova con Corruption Motivetto Meccanico 3-4-5 Elia Rossi Al raddoppio per lui A San Rossore Corruption Da un capo all'altro Tiene il rispetto Motivetto Terzo Meccanico Quarto Tango Ruiziano In alto 3-4-5-1-8 È l'ordine d'arrivo Non molto male questo bimbo Ragazzi Tanta passione Piano piano acquisi Anche esperienza E Riuscirà a comandare meglio Probabilmente nel finale Ma è già Piuttosto efficace Almeno guardandolo così Sembrava in difficoltà Poi l'ha ripresa a braccio E frusta E ha reagito A Motivetto C'era Ferra Mosca Dall'altra parte Non Certamente Uno a caso È tutto Seconda corsa vinta da Elia Rossi Dopo Pakistana Porta al traguardo Corruption Elia Strana questa cosa Dopo la prima vittoria La tua esultanza È stata molto meno contenuta Che non Dopo questa di oggi Eh Oggi Ci tenevo a vincere Corruption È una valla fantastica E abbiamo fatto un percorso insieme Quindi Mi piaceva vincere anche io e lei È Grazie.